Buongiorno, ciao a tutti, sono Maria, sono la lavoratrice dell'Orio Center di Orio Alserio e oggi siamo qui presenti, tutte e tre le sigle sindacali, per scioperare per un dubbio motivo. Il primo è quello della imposizione che è arrivata quest'anno di lavorare nei giorni festivi che sono con gli ultimi quattro che abbiamo a disposizione in questo centro commerciale perché gli altri ce li hanno già erosi nel tutto, ma abbiamo accettato perché ci rendiamo conto che il posto di lavoro è prezioso, vogliamo tenerlo, però adesso almeno questi che sono i più importanti dell'anno vorremmo tenerli per dare la dignità al lavoratore di avere una sua vita personale con la sua famiglia perché durante l'anno non riesci più, perché le domeniche si lavorano tutte, l'orario ormai è prolungato fino alle 22 tutti e 7 giorni, quindi una vita quotidiana in famiglia ormai non esiste, quindi almeno in questi giorni vorremmo farlo, anche perché la stragrande maggioranza dei lavoratori sono giovani e hanno dei bambini piccoli. Il secondo motivo molto importante, secondo non per importanza è il rinnovo del contratto con fede e distribuzione che sono quattro anni che non viene rinnovato e siamo qui anche per questo perché ci sono ancora tante cooperative da regolamentare. Grazie. 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 Grazie.